Quando il Milan vince è sempre una bella domenica ma potrebbe essere una domenica ancora più bella, mi raccomando commentate numerosi, iscrivetevi, lasciate un like, tante notizie, vi voglio far vedere però questa bella idea regalo della Montina, la confezione già è bellissima, che potete trovare sul sito che vi metto qui sotto nella descrizione, con il codice MONTINAELLO, soltanto per voi iscritti di Milanello, la possibilità di avere lo sconto del 10%, guardate, ottima idea regalo anche per voi, con i calici, lo stopper e l'unico Franciarossa, tutto targato Milan, utilizzate il codice sconto, regalo per voi o per i vostri amici, parenti, fate bella figura, ovviamente tutto rosso-nero, ci mancherebbe altro, qui sotto c'è il codice utilizzato, ripeto, soltanto per voi e noi di Milanello, io qualche regalo così lo faccio, l'ho già fatto, l'ho già ordinato, quindi affrettatevi anche perché tra poco è Natale, Allora ragazzi, andiamo subito con tutte le novità, ce ne sono diverse, innanzitutto voglio far vedere oggi, dopo, perché poi capirete perché ve lo faccio vedere, dopo 10 minuti rosso diretto a Donnarumma per questo intervento shock, papera o non papera, insomma sicuramente però ecco, goffo, falloso, espulso, continua un momento negativo per Donnarumma, proprio nel momento in cui invece il nostro portiere fa il portierone. Vi devo far vedere un documento per me incredibile, dobbiamo parlare anche di un colpo che il Milan pare possa mettere a segno ed avere fiducia nonostante la concorrenza, ma anche di un paio di commenti risposte forse sorprendenti visto da chi sono arrivate nei confronti di Paolo Maldini. Partiamo subito intanto con Maldini colpo o quest'altra cosa qua, allora facciamo così, partiamo subito intanto perché dicevamo di Donnarumma, no? Di Donnarumma, ecco, rivediamo per un attimo il lancio, il lancio, non vorrei soffermarmi ancora su Pulisci perché l'abbiamo commentato nel video precedente, guardate il lancio, 66 metri da fermo, la palla è ferma, fermo da fermo, secco diretto, spettacolare, mirato, arrivato, giocatore incredibile, il nostro Magic Mike Mignan, anche se quest'anno qualche errore l'ha commesso, un'opera d'arte il controllo, un'opera d'arte anche, devo dire, il lancio di Mignan, che pensate è, secondo Pulisci, il migliore portiere al mondo, e io non ho obiezioni, pensate che è al terzo assist da quando al Milan, quindi è il portiere che nelle ultime tre stagioni ha fatto tre assist, cioè è unico, è un record, ogni anno ha fatto almeno un assist, quest'anno magari ne farà più di uno, quindi ieri Leao poi ha scritto abbiamo un centrocampista in più per il lancio di Mignan, inquadrando il nostro portiere davvero top, così come top è stata la parata, l'uscita, che sembra facile ma non lo è, lì è uno contro uno, è andato a chiudere su Kuni, quando c'è stato quello svarione di Tomori, e poi anche dopo ha fatto un'altra bella uscita. Sul gol, qualcuno ha scritto Paperona, sì, sicuramente lì bisogna fare di più, però guardate che cosa vi faccio vedere, e poi veniamo al colpo, o colpaccio, lo definirei così, che il Milan vuole provare a chiudere, che secondo esperti di calciomercato il Milan chiuderà, ma anche quest'altra situazione legata invece a Paolo Maldini. Allora, guardate qui, siamo a fine partita, voi direte tutti contenti, no? Che cosa succede? Succede che a fine partita vanno tutti sotto la curva, ok adesso riparte, guardate Mignan, abbraccia il compagno, e poi dice a Teo, cosa fai? Vai con la testa, perché ti sei abbassato? Vedete se c'è una spiegazione anche piuttosto accesa? La testa, perché? E poi Teo dice qualcosa tipo forse, l'ho sentita chiamata, no? Indica l'orecchio, però guardate la mentalità. Tanto chapeau a Teo perché si è applicato, si è proposto in un ruolo non suo, e questo per me è un bel segnale, ma guardate Mignan, questa è mentalità pazzesca, è un documento che secondo me è incredibile perché ci rappresenta benissimo quanto sia leader questo giocatore qui, questo portiere qui, che nonostante hai vinto, facendo anche un bel partitone, hai fatto pure un assist, è lì e cura i particolari, subito a caldo, perché abbiamo preso gol? È arrabbiato perché prendiamo gol? E dice al compagno che bisogna migliorare anche sotto questo punto di vista. Per me con questa mentalità si può andare lontano, se ce l'avessero tutti ovviamente sarebbe qualcosa di incredibile. ci fa capire quanto sia leader lui e quanto sia un professionista straordinario, che non si accontenta, cerca di alzare sempre l'asticella, un perfezionista clamoroso. Io ho i suoi guanti, li tengo, li conservo, non vedo l'ora di inserirli nel nuovo studio quando sarà pronto, ci vorrà ancora un po' di tempo, lo annuncio da tempo però i tempi sono lunghi, e davvero è qualcosa che mi fa venire gli occhi a cuoricino. È furioso, è arrabbiato, nonostante la vittoria per quel gol preso. È davvero bene, 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 bene. È unico, è unico. Arrivato in sordina tra lo scetticismo generale, ma come fai, eccetera, eccetera, guardate, ecco. Non voglio tornare sull'altro, che però si è fatto esperto dopo dieci minuti, è successo anche Mignan per carità, però ecco, Mignan è... Pulisic, l'ha definito il miglior portiere al mondo. Eh, io lo dico da un po', anche se quest'anno non sta facendo sempre il miglior portiere al mondo, però è troppo incompleto, è troppo completo, piedi, testa, mentalità, parate, davvero. Top, 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 clamoroso. Clamoroso. Amici, iscrivetevi alla festa di Milanello, prenotatevi, qui sotto c'è il numero di telefono, settimana prossima al Fil di Seregno, prenotate, siamo già tantissimi, ma è abbastanza, quando si parlerà, si discuterà di Milan, si festeggerà il Natale, che sta per arrivare, 100.000 iscritti, ricorderemo il nostro mister Carlo Pogliani, che secondo me oggi sarà contento, perché? Perché poi lo svilupperò anche in un video. Dopodiché, prima di passare al discorso su Maldini, voltiamo pagina, Milan che è attento e attivo sul mercato, oggi su CM, nel mio editoriale ho scritto, su Minamania ho detto, il fattore mercato può essere importante per la stagione, perché ne abbiamo estrema necessità, soprattutto in difesa, che è diventata la priorità. Uno o due si vedrà, sicuramente uno, ma deve essere bravo, perché abbiamo bisogno di un titolare lì. detto che Teo ha fatto benissimo, però non sempre puoi giocare con un frosinone che magari non ti ha pensito più di tanto, a parte qualche frangente, e non sempre puoi andare poi a fare le tue scorribande offensive quando parti da centrale. Serve il difensore, Milan che è attento, ripeto, secondo me il mercato è stato positivo, a parte il numero 9, ma svilupperemo anche questo, perché qualcuno ha paragonato il mercato di Moncada da quello di Mirabelli, e io anche nei momenti in cui qualcuno di voi mi scriveva adesso, quando le cose andavano male, mi dici ancora che il mercato è stato buono, dicevo di sì, lo dico a maggior ragione oggi, in tutto questo Milan che è molto vigile, e che può e deve fare cose. Uno di questi dovrebbe essere, il mio amico Nicolò Schira mi ha confermato, lui è esperto di mercato, a 360 gradi, mi ha confermato che non è chiuso, ma il Milan ritiene di poterlo chiudere, credo per la prossima estate, nonostante la concorrenza, per me sarebbe un colpaccio, perché il Milan ci lavora da tempo, e il lavoro paga. Si è inserito anche il Bayern Monaco, ma lui vuole giocare, e il Milan sembra che lo stia convincendo davvero, rispetto al proprio progetto, sembra che il Milan lo abbia quasi in pugno, e a San Ouedraogo, che come sapete ve ne ho parlato spesso, a 17 anni, ma non è per la primavera, è per la prima squadra, perché questo è un talento generazionale, quasi 18 anni o meglio di farà a maggio, tedesco 1,91, centrocampista che ha fatto anche l'esterno, scadenza con lo Schalke 2027, il più giovane, marcatore della storia dello Schalke, ha battuto anche Draxler, ha fatto gol quest'anno nella Serie B tedesca, nella Bundesliga 2, 11 presenze, un gol e un assist, giocatore che, nell'Under 19 dello Schalke, ha 13 partite, 7 gol e 2 assist, nell'Under 17 ha 22 partite, 9 gol e 12 assist, molto qualitativo, io me lo sono studiato, qualche osservatore me ne ha parlato molto bene, ho guardato qui su YouTube, devo dire che impressiona anche la facilità, l'agilità, nonostante la stazza, e la tecnica soprattutto. è un bel centrocampista, che forse è quello che serve a noi, cioè inserire un giovane, che può diventare fortissimo, perché comunque tra Loftus Schick, Reinders, Musa e Ben Asser, devo dire che siamo messi bene, si può sempre migliorare per carità. Ripeto, Milan, che ritiene di poterlo chiudere, e bloccarlo per la prossima estate. Gennaio sembra un po' difficile, perché lui vorrebbe completare l'anno, e finire, proseguire il percorso di maturazione, e non finirlo, quest'anno con Loftus Schick 0-4, nella sua zona attuale. Poi, Paolo Maldini, su Paolo Maldini ci siamo espressi tantissimi, la sta grande maggioranza è d'accordo con lui, io non voglio dare il Sassolino come aforo, ma uno all'altro, io il Sassolino lo do sempre al Minan, e per me esiste sempre solo Carlo Minan, ad esempio, chi oggi mi ha scritto, ma come Pioli non era da esonero una settimana fa, sì, lo ribadisco, che per me era da esonero, non cambio idea, lo dicevo anche un mese fa, e poi, sono il primo a sperare che, le cose possano cambiare, e che si possa fare una bella stagione. Secondo me, cambiando un mese e mezzo fa, la stagione sarebbe stata, molto probabilmente, migliore rispetto a quella che potremmo fare, però, la realtà era lì da vedere, non è che abbiamo comunque fatto cose clamorose, due vittorie di fila, male in Champions, però spero tanto che le cose possano andare bene. Su Maldini io ho detto, su alcune cose sono d'accordo, su altre no, non sono d'accordo sul fatto che, Tonali non dovevi cederlo, perché non c'era un budget illimitato, in qualche modo, purtroppo abbiamo capito, quel sacrificio andava fatto, senza considerare il discorso scommesse. su De Chetelare e i giovani, i giovani e i giovani, però 35 milioni per De Chetelare, inseguito a lungo, comunque, oggi è un errore, e su altre cose invece sono assolutamente d'accordo, soprattutto sulla mancanza di empatia, di minanismo, di competenza di campo, una figura di Milanello, eccetera, eccetera, eccetera. Mi ha molto sorpreso il parere, il commento pubblico, di due suoi ex compagni, proprio perché ex compagni, quello, diciamo così, un po' più morbido, è quello di Costa Curta, che dice, sono rimasto sorpreso dalla tempistica, quindi fa capire che non la condivide, e anche dalle parole, ha sparato alto, non so di chi parlasse, ma ha cercato di colpire queste persone, abbastanza pesantemente, conoscendolo, credo che l'abbiano chiamato per parlare in questo momento, mi sembra strano che sia stato lui a chiamare per parlare, così, Billy Costa Curta, che, diciamo, si dichiara così un po' sorpreso dalla tempistica, ben più duro invece, ben più duro un altro ex compagno, tra l'altro parliamo di tutti i compagni di reparto, mentre si è posizionato qui un petti rosso sulla ringhiera, che adesso però se ne è andato via, sono rimasto sorpreso dalla tempistica e dalle parole di Maldini, dice Costa Curta, mentre, devo recuperare, perché mi si è chiusa la pagina, le parole, in questo caso molto più dure, di Filippo Galli, che è un grande uomo di calcio, era intervenuto anche qui su Milanello, è per me un bravissimo dirigente sportivo, soprattutto nel settore giovanile, un grande milanista, lui che cosa ha detto? Allora, spiace solo per il momento, secondo me non era il momento giusto, considerando il club e le difficoltà che sta avendo adesso, io parlo da tifoso rosso-nero, bisogna cercare di dare più tranquillità possibile a squadra ambiente, poi ovviamente il fatto di essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa, non si discute, ma non era secondo me il momento giusto per il bene del Milan, quindi un ex compagno come Filippo Galli, parlando da tifoso, comunque dice una cosa che può essere giusta, e forse è giusta, cioè che, secondo lui, non era il momento, si poteva dire magari un momento più positivo, ma se lo fai in un momento negativo non aiuti ma affossi, quindi poteva scegliere una tempistica diversa, un momento diverso, secondo Filippo Galli, dice, serviva tranquillità, così invece ci hai messo un carico, e così non fai il bene del Milan, quindi per Filippo Galli, in quella dichiarazione, Maldini non ha fatto bene del Milan, e doveva scegliere un momento diverso, sulla tempistica effettivamente, dopo che si è quasi uscito dalla Champions, la partita molto brutta con i Borussia Dortmund, non era al massimo, ecco, si poteva fare magari dopo la vittoria con il PSG, avrebbe avuto sicuramente meno peso, a livello anche mediatico, però ecco, Galli molto sincero, non guarda in faccia a nessuno, e dice una cosa sulla quale credo si possa anche essere d'accordo la tempistica, poi lui ha fatto bene a togliere Sassolini, i compagni, gli ex compagni dicono, forse non era al momento buono, hanno ragione? Scrivetelo qui sotto nei commenti, mi raccomando, speriamo di brindare a qualcosa di buono, qui sotto fate un giro sul sito, utilizzate il codice MONTINAELLO, mi raccomando, regalo top, 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 tutto rosso nero, e mi raccomando, la festa di Milanello, vi aspetto domenica prossima, ore 19, al fin di seregno, qui sotto c'è il numero per mandare il vostro whatsapp, e per notarvi, ovviamente gratuitamente, un abbraccio, vi rimando anche al video precedente, e vediamo come va la giornata, ciao ragazzi!